E' stato definito il piano regionale della campagna per l'avvio della campagna di vaccinazione per i bambini di età tra i 5 e gli 11 anni. 388.000 in campagna, dati Istat. Il 16 dicembre, giorno successivo all'arrivo annunciato dei vaccini Pfizer riservati all'età pediatrica, sarà una giornata interamente dedicata alla somministrazione dei vaccini per bambini. In questa giornata tutti i centri vaccinali della campagna saranno impegnati solo per questo tipo di vaccinazione. Anche alcuni istituti scolastici, ancora da indicare, parteciperanno alla campagna e saranno hub di riferimento territoriale dedicati alla vaccinazione pediatrica. Dal 22 dicembre al 10 gennaio, nei giorni delle vacanze natalizie per le scuole, anche gli istituti scolastici potranno, su indicazione dei propri dirigenti, partecipare direttamente alle vaccinazioni pediatriche. Già da oggi è possibile aderire alle vaccinazioni pediatriche allo stesso link già attivo dalla regione. Si tratta di un'adesione non vincolante. Anche per questo tipo di vaccinazione non vi sarà bisogno di prenotazioni. Basterà presentarsi nei punti vaccinali dedicati, dove è stata prevista una netta separazione tra percorsi riservati ai bambini e percorsi per tutti gli altri cittadini. Un supporto importante, oltre al mondo della scuola, sarà fornito dall'impegno dei pediatri di libera scelta, con i quali è stata definita un'intesa per il loro diretto coinvolgimento nella campagna. Nei prossimi giorni partirà anche una campagna di informazione per fornire tutte le indicazioni mediche e scientifiche per dare sicurezza e serenità alle famiglie. Fatta eccezione per la giornata speciale del 16 dicembre prossimo, riservata ai bambini, la campagna di vaccinazione continua e continuerà regolarmente a pieno regime per tutta la popolazione campana.